Per la nostra rubrica player.com andiamo oggi a conoscere Eros Nastasi, il giocatore di Planet che sta ultimamente dimostrando il suo grande potenziale in tutti i circuiti live. Il già vincitore dell'EPT infatti anche quest'anno si è rimesso in gioco alla grande. In questo WPT di Venezia sta andando comunque molto bene. Andiamo a conoscere insieme com'è andata questa sua giornata e soprattutto quali sono le sue prospettive nel mondo del .com. Allora Eros, finalmente sei il mio giocatore preferito, riesco a fare la mia intervista con te. Anche tu sei il mio preferito, anche tu. Ascolta, facciamo prima una pregunta su quello che è invece oggi. Ti ho visto vincere uno shutdown forse su 127. Allora, a parte la giornata di ieri che abbiamo perso quel colpo lì stratosfericamente brutto, se così si può dire, oggi ho iniziato di nuovo a scendere in guerra con le mie 40X lì, però a parte altri due shutdown al 70 persi, sono ancora dentro a 73.000. È un torneio abbastanza giocabile e dunque permette anche con 20X, 25X, 18X di giocare tantissimo, di giocare post-flop. È un gioco di attesa perché un IMTT conta sopravvivere e dunque l'attesa ci sta premiando fino ad ora. Ti ho visto invece recentemente proprio l'evento tuo di casa, no? A Malta che mi sembra essere andato anche quello molto bene. Soprattutto i commenti sono stati, mi sono divertito da Malta, è stata una grande famiglia che forse è un complimento maggiore ancora che non della vittoria vera. Sì, ancora, come sai benissimo, organizzare un torneo soprattutto all'estero ad oggi non è facile. Vuoi per la crisi, vuoi per tanti altri fattori, comunque non è facile spostare 300-330 persone. Graziando Planet, un mio carissimo amico e nonché organizzatore, Massimo Laganà, sono riuscito a fare un torneo, a dir poco, spettacolare. Non perché sia quello di casa, ma ne parlo perché proprio ti trattano bene. Poi Malta, vedrai, è un'isoletta a mezz'ora circa da noi, perciò per noi siciliani Malta è proprio un punto di ritrovo fortissimo, casalingo tra virgolette, no? E perciò siamo stati parecchio bene. Online invece come sta andando, quanto stai giocando e come vedi la situazione soprattutto nei .com che già tanti italiani stanno spostando, sai per giocare all'estero e avere più possibilità di gioco. Ti dirò la verità, online ultimamente sta andando benissimo, non bene. Domenica scorso ho vinto nel Dorado, perciò sono contento anche di questo. E sto giocando ultimamente tantissimi MTT. C'è da fare un adattamento di gioco anche quando ti sposti dal .yt al .com, soprattutto nei tornei online? Allora, considera che non è totalmente differente il gioco, ma relativamente un po' cambia, perché vai a giocare con persone che hanno totalmente degli schemi di gioco diversi da quelli italiani, perciò nel .yt, io personalmente mi trovo bene a giocarlo, ormai conosco un po' tutti, e dunque i thinking process di molti ce li ho già chiari in mente. Nel .com, a dirti la verità, oltre a Planet non gioco da altre parti, perché comunque ce l'ho in mente quest'anno di trasferirmi a Malta e andarci a giocare anch'io da qualche altra parte, perché come vedi un po' tutti i professionisti ci stiamo spostando tutti lì, vogliamo ancora migliorarci, perché questo è un gioco che si vive tanto di orgoglio, si vive tanto di voler fare, di dimostrare, di voglia di vincere. Io ne ho tantissime e quest'anno penso anch'io di fare questo passo.